Ciao, sono Sara Della Marca, responsabile commerciale di FDM e oggi voglio condividere con voi la mia visione ed edizione per questa azienda. Nutro un'esperienza decennale in questo settore per la vendita di apparecchiature di laboratorio con controllo della temperatura e dell'umidità. Ho avuto modo in questo tempo di conoscere diverse imprese, ho affrontato sfide complesse ed ho ideato strategie innovative per raggiungere i nostri obiettivi. Sono convinta che il successo di FDM risieda nella soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti. Inoltre, credo che i risultati straordinari possano essere raggiunti attraverso la collaborazione e coinvolgimento di ogni membro del team. Unisciti a noi in questo viaggio di innovazione e partnership, insieme non costruiamo solo macchinari, ma diamo il contributo alla ricerca scientifica.